Io ho finito l'evento, ce l'ho sbloccato con il nello ringhio, ho franco, come avete visto nel video, e poi ce l'ho sbloccato in questa cassa qua, delle 450 ringhio, continuerò l'evento, oggi è un giorno, avevo le 600, poi ti ho farmato un sacco, oggi, fate conto che stamattina ero qua, le 400 ho già fatto fino alle 650, ho fatto quasi 1000 zucche in un giorno, quindi ce la faremo. Allora, cosa ne penso io di un nuovo personaggio? Visto che abbiamo il primo game Pocho, io direi di partire da Pocho, quindi, praticamente, allora, Pocho, che cosa va secondo me? Pocho è molto content come personaggio, soprattutto, però da livello 2 in poi, a livello 1 va abbastanza schifo, quindi adesso lo valutiamo insieme in game, le zucco ovviamente le continuo a prendere, anche se ce l'ho tutte, però io voglio la schifo. che mi piace tantissimo, oggi ho fatto anche le 100 win streak, però purtroppo ho perso il mio record di 100 win streak, che tanto quello che mi interessava era arrivare a 100, non c'ho fatto un video perché, ovviamente, quanto win streak facevo, quindi ho di nuovo tutti i personaggi, prossimo video di squad probabilmente sarà la tier list dei personaggi di squad buster, perché, avendoli tutti, li voglio valutare in un video unico. Purtroppo non vi ho fatto vedere video sui personaggi che trovavo, regà, mi dispiace tanto, però, dai, penso che un po' tutti dei vecchi personaggi lo sappiano. Comunque questo evento mi ha portato anche cose a riguardo 50, oggi non ci arriverò, non penso, dai ragazzi. Mi hanno visto ma... ma messaggi. Allora... Purtroppo in questo game non mi sembra di vedere robe. Ah, comunque nel prossimo... tra poco arriva Halloween. E ho già in mente una mezza idea, che speciale. Non vedo l'ora di Halle, non ce l'abbiamo a questa preferita, ragazzi, quindi... Mi piacerebbe... Ecco, poi, ultimamente vi stanno... Ems, regà, io sta mappa l'odio perché sta Ems, che secondo me è il botto più forte degli squad, mi ammazza sempre. Non so voi, eh, però me, sempre. Beh, comunque continuo a parlare di Boccio, Boccio non è male. Come voto do un 7 su un 10. Non è sicuramente il curatore più forte, ma per me è più forte che il dottore. Il dottore gli do un 6. Come curatore non mi fa impazzire. Pam per me rimane la migliore curatrice. Perché non è senza... Alcun dubbio. Sì, ho tutti i nuovi personaggi perché, come avete visto nel video, che doveva essere shorts, però non è venuto shorts, purtroppo. Tra poco ho un prossimo video di squad, non so quando uscire, cioè se non contiamo la video di lista. Potrebbe di metà ballo, quindi farò le... userò le spiglioni. Come speciale. Adesso va bene, metto le stelle. Facciamo le stregoni. Questo è il massimo, perché non finisco il game e vi faccio vedere la mia flanda. Perché chi me la vuole mandare, così fa. Allora, il prossimo video, dopo quello del skin di alu intenso, sarà per il prossimo update. Regà, vi dovete aspettare un video al mese, ormai di squad. Se è grande l'update. Il prossimo update probabilmente vi porterò un altro video. Perché aggiungeranno le 3v3, quindi... Quel video sarà molto corposo, regà. Molto, molto. Quindi... Allora, intanto sono quinto, meno male. Intanto non scenderò sesto agli ultimi secondi, ma sticavo... Sticavo lì, perché non ho la win streak. In endgame vocio proprio, mi è capitato, bello. Adesso. No, c'avevo 40 giorni. Devo far male le monete, regà. Ah no, vabbè, è fatta. Vai, regà. Dezucco fatto. Ehm, stiamo andando. Ehm... Grande, comune grande. Il prossimo sarà una 100 cento e il colonnello Linguo sarebbe stato assicurato, però comunque... C'è l'altro che penso... Chi mi ha dato? Che non mi avevo visto. Ah, il Goblin. Dezucco. Ehm... Finiamo l'evento. In questo game... Parliamo di Ringio, che lo... Ho per la prima volta. Allora, Ringio... È sbroccato, cioè, perché ti dà subito una fusione, come inizio. Non è abbastanza il fisco. Dio, già... Non vi do già il voto, però vi dico che 3-3 è il personaggio più forte. Anche io mi sa uno dei più forti del squad. Non batte il tank, ma... Di start? Così? Ringio? Che fortuna, regà. Fa anche tanti danni. Dammi pocio. Dai che al prossimo game ci capiterà. Dammi di nuovo Ringio, ti prego. No. Ovvio che ho cominciato con Ringio. C'è tantissimo danno, regà. Che fortuna. No, c'è la combo Goblin Mercante. Quello là diventa più. Ok. Vai di Colt. Allora, quindi aspettatevi il video di Alun. Probabilmente si verrà ciò che potrebbe fare. Oltre che un altro... Se tutto va bene. Aiuto. Ah, poi ditevi se volete altri video in compagnia. Cioè perché... Ho visto quello di Tommy, non è andato male. Oddio. In realtà si è andato abbastanza male, ha fatto pochissime più. Però, se volete altri video in compagnia, scrivermi. Cioè, Tommy ne ho fatti un po'. Ne ho fatti due. Sì, perché se lo chiede, io e Tommaso, che non ci conosciamo dal vivo. Se non c'è l'infanzia, quindi... Diciamo che... Nel suo canale sono molte volte apparsi. Tra molti video, secondo me, ovviamente... Nel mio lui appare abbastanza pochino. Perché purtroppo, lui, registrando la PC, può fare la chiamata dal telefono. Io, invece, è un po' più complicato. Ecco. Però, continuiamo con il colonnello Lingio. Se mi ricapitasse... Non sa che l'uomo è più felice al mondo, penso. No. Ok. Vabbè. Speriamo che al prossimo game ci capiterebbe Frenica. Non li abbiamo fatti noi. Ci no. Allora. Ottimo. Ottimo, 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 ragazzi. Ok, otto zucchette. Dieci zucchette. Dieci, che piava in vita. Ok. Fatto. Tra quanti ricade? Ottimo. Non ho fatto le zucchette. Buono, buono. Ah, comunque, alla fine, voto a Ringio. Un bel dieci. È OP. Mi immagino... Nella guerra dei cloni, non mi ricordo. La patita di suono, perché gli era beccato lì. Cioè, guardate. Poi fa anche un botto di danni. Non pensavo facessi così tanti danni. Non vedo quello di farne. Cinque stelle. A cinque stelle. Comunque, dopo questo video, se mi metterò a fare le zucche. La prima... Beh, rega, appena... Io vi saluto anche Frank in questo video. Purtroppo non ve l'ho fatto vedere, però ho poco tempo. Quindi... Frank... Frank... Sette. Non l'ho mai detto. No, ho capito la mia ringrazione. Non l'ho mai detto. Eh... Non l'avevo... Non l'avevo di usare, però. Non mi è capitato prima. Però... Dai, dai. Mi ha fuso il barbano. Wow. Quindi sì. Quello intanto i personaggi ce li ho di... Non male. Tutti i personaggi ce li ho di nuovo. Vedatemi la... Il content. Vabbè, rega. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.